Prendere le armi per il professor Becchi non sarebbe una follia. Quello che fino ad oggi è stato definito l'ideologo dei 5 Stelle, professore di filosofia del diritto all'Università di Genova, sostenitore del movimento, scatena con le sue parole un'accesa polemica e poi prova a gettare acqua sul fuoco. Stavo scherzando, dice, aggiungendo, non sono l'ideologo dei 5 Stelle. L'ultimo intervento a servizio pubblico per provare a spiegare il senso delle sue parole. La mia era una metafora, dice, se i partiti intentassero contro il movimento 5 Stelle un golpettino istituzionale sarebbe giustificato di fronte alla grave provocazione di nominare il direttore generale di Banca Italia al Ministero dell'Economia. Parole che riportano ad anni passati, ma segnati purtroppo dal sangue, gli anni di piombo con i cattivi maestri. Parole che provocano lo sdegno di tutti e nette prese di distanza, in primis dei parlamentari dei 5 Stelle, i quali chiariscono, con lui il movimento non ha nulla a che fare. Il movimento 5 Stelle contro la violenza è pacifico, si legge sul blog di Grillo, ma quali erano state esattamente le parole del professor Becchi? Eccole, se qualcuno tra qualche mese prende i fucili, non lamentiamoci, abbiamo messo un altro banchiere all'economia. Non so quanto il movimento possa frenare la violenza della gente, che è nella natura delle cose. Becchi chiarisce il suo pensiero, se ai 5 Stelle saranno negate le presidenze delle commissioni di garanzia, sarà un golpettino istituzionale e a quel punto non è follia pensare che uno possa prendere le armi. Alle parole di Becchi insorge il PD, dietrologia intollerabile, ma anche il PDL commenta parole farneticanti. A sigillare la presa di distanza dal movimento arrivano anche le parole di Beppe Grillo, non ha nulla a che fare con il movimento, tanto meno ne è l'ideologo. E il professore, costretto a far marcia indietro, prova a rettificare. Non invoco la violenza, avverto del rischio. Comunque, conclude, tolgo il disturbo.